È una partnership di inizio di una sfida sportiva innanzitutto, nella quale sono stato coinvolto e soprattutto nella quale io credo. Quindi è una sfida che mi piace, entrando in corso con una squadra prima in classifica è una sfida sicuramente meno pesante del solito. Ci sono un insieme di interessenze che oltre allo sport naturalmente io credo che tutti gli sponsor devono avere insieme all'attività agonistica, devono avere sicuramente un ritorno dall'investimento che sulla squadra si fa. Ha avuto modo di conoscere i ragazzi, la squadra? Non ancora perché siamo arrivati da poco, c'è molta curiosità e c'è sicuramente molta attenzione e tante aspettative reciproche. Obiettivo? Conquistare la Serie A? Assolutamente. Lei confermerà eventualmente il suo sponsor anche per la Serie A? Sì, sì, sì. La presenza sul territorio è vicino alla squadra sicuro. In un periodo di crisi come quella economica che sta colpendo l'Italia, investire a Reggio Calabria cosa l'ha spinta a parte il progetto BIC? La diversità di tutte le sfide degli imprenditori. Se ci sono delle opportunità sicuramente possiamo coglierle, questo senz'altro. Ci sono delle cose che si possono fare, dei progetti su degli impianti per la città che secondo me possono essere prese in serie considerazione. Questo sì.